Per anni siamo stati gli unici a parlare del modo di amministrare e dei comportamenti politici di Francesco Spina. Per carità, niente di che, semplicemente abbiamo fatto il nostro mestiere ricevendo in cambio acrimonia e querele. Lo abbiamo fatto nel silenzio quasi generale, al punto che in molti si sono convinti di una personalizzazione del confronto. Ma perché ce l'avete tanto con Spina? È stata l'idiota domanda che ci è stata spesso rivolta. Non ce l'abbiamo con nessuno, è stata la nostra paziente risposta, semplicemente raccontiamo fatti. Oggi, dopo che per primi abbiamo aperto il caso Spina PD, constatiamo di essere in abbondante compagnia. E quasi non c'è giorno che un'attestata nazionale non dia una notizia riguardante il nostro eroe. L'altro ieri è stato l'Huffington Post a dare notizia dell'indagine relativa alla denuncia di un parroco. I fatti sono ormai noti. Don Fabio D'Addato afferma di essere stato ricattato dal sindaco e ha allegato alla sua denuncia una registrazione del suo incontro con Spina che attesterebbe tale ricatto. Il sindaco da parte sua nega con forza la circostanza e al contrario asserisce di aver cercato di salvare i 21 lavoratori licenziati da Don Fabio a causa del cattivo andamento dell'asilo Gesù Fanciullo, poi affidato ad una cooperativa. Come siano effettivamente le cose, chi dice il vero, non ce lo facciamo dire né dai protagonisti, né da Emiliano, né da Mennea, né da chiunque sia intervenuto sulla vicenda e neanche dall'Huffington Post. Ma solo dalla magistratura che ci auguriamo si esprime in tempi rapidi anche su questa vicenda. Ma consentiteci di chiederci, quando abbiamo denunciato l'anomalia di Spina al comune sindaco di centro, alla provincia presidente di centrodestra e alla regione coordinatore di centrosinistra delle liste Emiliano, è eclatante caso politico forse unico al mondo. E per questo, a nostro modesto avviso, ben più clamoroso dell'iscrizione di massa al PD. Non interessava niente a nessuno? Per otto mesi lo abbiamo ripetuto ai 420 nei nostri servizi nell'indifferenza generale. Nessun clamore, neanche quando in pochi abbiamo dato notizia di Spina indagato a Lecce per abuso di ufficio per il cambio di destinazione d'uso di un terreno adiacente, la masseria San Felice. Ora tutto il mondo mediatico è interessato in modo per molti sospetto, o perlomeno sorprendente, ad ogni respiro di Spina. Manca solo Bruno Vespa a porta a porta con il plastico del comune e della sede del PD di Biceglie. A Spina non abbiamo mai fatto sconti e continueremo a non fargliene, ma lasciateci rivendicare una nostra peculiarità, i potenti con cui confrontarci. Ce li siamo sempre scelti belli grossi e al massimo della loro forza. Il calcio del mulo quando sono in palese difficoltà lo lasciamo ad altri.